Nei confronti di Poker B369, quando si va agli ordini dello starter, si ritrae Pathos OM. Macchina che va per lasciare i concorrenti con Paola Alter che prova a sopravanzare Prestige S e soprattutto Prinzibar che prova a rientrare, ma Paola Alter alla fine si distende e affronta il paletto dei 200 metri da leader in 14. Seconda posizione per il numero 1 Prinzibar che ora prende la via del largo, vuole probabilmente andare a chiedere strada mentre dietro sono tutti abbastanza distanti i 400 in 29. Si ritrae ora di nuovo Prinzibar quando siamo al passaggio davanti alle tribune. La via del largo che viene presa da Pathos OM che va a sua volta deciso su Paola Alter. Si trova costretta così a accelerare nuovamente la leader, 45.8 il passaggio ai 600 metri. La seconda posizione alla corda all'esterno è quella di Perfect Baby, mentre la terza alla corda è quella del numero 4 Prestige AS. Metà gara che va via in 1.1.8 da parte di Paola Alter, sempre nei confronti di Prinzibar. Poi all'esterno Pathos OM, quindi ancora Prestige con al lato il numero 2 Perfect Baby. Il chilometro della leader in 1.16.8 con adesso il nuovo attacco da parte di Pathos OM ma soprattutto la mossa in terza corsia da parte di Platini che va adesso a porsi in schiena a Pathos, sempre ben appostata la corda a Prinzibar. Quando siamo adesso a metà della piegata conclusiva, Paola Alter al comando, Pathos all'esterno. Prinzibar che cerca lo spazio per venire a correre, poi ancora Platini addirittura di arrivo con Paola Alter che si allunga lungo i virilli mentre prova a sgabbiare Prinzibar, poi più indietro per linee interne anche il numero 4 di Prestige AS. Paola Alter che ancora al comando nei confronti di Pathos, poi anche il numero 4 di Prestige. Nel finale cede Paola Alter e tra Prestige AS e Pathos OM si giocano la vittoria. Andiamo a rivedere gli ultimi metri, 2-2-3 il tempo totale, vediamo come Paola Alter negli ultimi 50 metri accusi violentemente lo sforzo tant'è che all'interno Prestige AS e all'esterno Pathos OM la sopra avanzano negli ultimi metri. è il numero 4 di Prestige che ottiene il successo.